ebbene sì ragazzi sono nuovamente pronto per partire per l'ennesima avventura questa volta solo di tre o quattro giorni e questa volta a bordo del mio mitico van il puffo burlone che vi ho presentato in questo video che vi link adesso qua sopra se doveste esser ve l'ho perso ma spererei di no perché se mi seguite l'avete visto sicuro vi spiegherò poi perché sono col van e non direttamente in bicicletta partendo dal garage di casa mia ma la bicicletta vi garantisco che ce l'ho qua dietro perché la userò per fare il periplo del lago di seo che il posto dove sto andando visitare eventualmente molte isole al secondo giorno e qualche altra escursione ma poi vi racconterò anche il motivo per il quale vado col camper e un po di casini che ho fatto nelle mie pianificazioni come al solito perché ormai mi conoscete sapete che io organizzo disfo cambio e poi non faccio mai quello che dico la prima volta perciò seguitemi che vi racconterò tutto ciao a dopo brevissima sosta all'autogrill brembo non necessaria perché su 150 chilometri di viaggio di strada non era strettamente necessario ma è comunque un rito fermarsi all'autogrill a prendere almeno un caffettino guardate che bordello che c'è oggi che è il giorno di festa quindi ce la prendiamo con calma ragazzi vado molto con calma a dopo è luna e sono finalmente arrivato al camping sebino finalmente ma è stato un viaggio breve benissimo meno di due ore come vedete questo è il dentro del mio van e sono proprio al campeggio adesso mi mangio un boccone e vado a farmi un giro in bicicletta andrò a farmi un giro penso le torbiere e poi vediamo domani si fa il giro di tutto il lago a dopo ragazzi molto bene mi sono rilassato un po in campeggio ho mangiato due panini una birretta e adesso sto prendendo la ciclabile che voglio andare a vedere le torbiere infatti non mi sono nemmeno vestito da ciclista messo solo giusto il casco e preso un po di roba elettronica per fare i filmati come mio solito quindi andiamo a vedere come sono state torbiere ciao ragazzi ho appena lasciato la bici all'ingresso delle torbiere di sebino adesso sto seguendo il sentiero per il l'itinerario sud spero che non sia troppo lungo e soprattutto che non mi freghino la bici là fuori perché l'ho legata ma non mi fido sempre lasciare la bici così esposta quindi mi do una mossa faccio due foto faccio una bella passeggiata e vado a recuperare la mia bicicletta a dopo ragazzi la mia bicicletta a dopo ragazzi la mia bicicletta a dopo ragazzi carino è questo parco delle torbiere di sebino però non ho calcolato che oggi è il 2 giugno quindi è imballato di gente di persone non si riescono a fare le foto perché continuano a passare persone bambini si gridano nel caso di tornare in un'altra stagione magari dove si vede anche un po di più in questa natura però merita una bella passeggiata comunque quando ci sono i momenti come questi di calma dove non ci sono i bambini urlanti non ci sono i bambini un cestino di fragole ho fatto l'erroraccio di andare a iseo come avete visto era impestato di gente essendo festa oggi quindi mi sono fermato al banchetto e ho preso delle ciliegie me le hanno lavate mi ha messo un po di ghiaccio per rinfrascarle e adesso mi sono fermato su sta panchina che è bruttissima ma almeno è all'ombra ma è sulla strada c'è un traffico esagerato mi mangio ste ciliesi mi rilasso un attimino ma speravo di trovare una panchina un po più imboscata quindi non mi rilasso poi molto vero mannaggia e prima di andar via voglio farvi vedere anche una cosa guardate un attimo qua eh ecco l'avete vista quella bottiglia non è mia era già lì quando mi sono seduto io su questa panchina io l'andrò a buttare via ma chi è passato prima di me e l'ha lasciata qui è ne merito testa di cazzo soprattutto perché vorrei farvi notare a che distanza immensa c'è il bidone guardate adesso vi giro la telecamera esattamente in quel palo lì esattamente in quel palo lì c'è il bidone dell'immondizia saranno 20 passi da questa panchina ma perché perché dovete essere così testa di cazzo perché io io non veramente non mi capisco siete degli schifosi lasciatevelo dire siete degli schifosi e e eccomi finalmente in riva al lago godermi il gelato post cena e farvi il bidone di cazzo chiusura godendomi quel bel tramonto che c'è là dietro sono nella spiaggia del campeggio dove sono arrivato oggi facendo i miei 150 km molto tranquilli da casa come avete visto ho fatto il mio giro alle tordiere che sono 6 km da più dal campeggio e poi quella follia di andare a diseo con quel caos che c'era oggi vista la festività ma ci tornerò domani e nei prossimi giorni con calma me la vedrò un po' meglio quindi non mi resta che andare a riposare che domani provo a fare il pericolo del lago sperando che la toline vello sia riaperta perché ho letto stasera l'hanno inclusa per pericolo caduta massi proprio sulla ciclabile quindi spero che non vada a ramengo anche questa volta visto che la terza volta che provo a venire qui a fare il giro e non ci riesco per problemi di frane di chiusure manutenzione strade quindi buonanotte e a domani ciao ragazzi ciao